Ciao da Simona e bentornati su mondiali.it Il Mondiale USA 94 vinto dal Brasile viene ricordato anche per la particolare esultanza dell'attaccante Bebeto Vi ricordate che dopo il gol all'Olanda con le mani unite fece finta di cullare un bebè Quel bambino nato due giorni prima della partita è diventato uomo e calciatore Matteus Oliveira infatti ha da poco firmato un contratto di 5 anni con i portoghesi dello Sporting Lisbona Leggete il racconto nella rubrica Curiosità sportive Vi ricordate Camoranesi che si tagliò i capelli dopo aver vinto il Mondiale del 2006? Beh, Gigi Datome ha fatto lo stesso Il campione di basket dopo aver vinto l'Eurolega con il Fenerbace ha deciso di dare un taglio netto Via i lunghi capelli per festeggiare il titolo Quando toccherà la barba? Guardate il video nella rubrica Italia Ed ora la domanda del Mondial Quiz In che anno per la prima volta la Coppa del Mondo venne trasmessa in televisione? Aspetto le vostre risposte esatte Mi raccomando! Appuntamento al prossimo TG di mondiali.it Dove lo sport è a portata di click Un bacio dalla vostra Simona